Tintoria, tintoria che ti apporta l'allegria per andare a questa gente che ha ricordato Ciao a tutti, siamo Lello Analfino, Gabriel Andrews e Massimo de Tintoria Siamo qui perché attraverso Argo vogliamo dare anche noi il nostro contributo per questa campagna contro l'abbandono degli animali Gli animali sono degli esseri straordinari, i cani in particolare, io ne ho diversi Massimo è uno dei cani che ho e sono degli esseri che riescono a farti sentire migliore E abbandonare un cane, un animale, un gatto in generale è una cosa terribile Una cosa che non riuscirebbe a fare dormire le peggiori persone al mondo Quindi noi speriamo che i siciliani possano essere sempre più civili e sempre più innamorati di questi esseri viventi E che possano avere per loro tutto il rispetto che meritano Vivete una buona vita e abbiate il rispetto per voi stessi ma soprattutto per gli animali Vi voglio lasciare con una frase che chi non ha mai posseduto un cane non sa che cosa vuol dire essere amati Questa è una cosa straordinaria, una cosa bellissima che voglio ricordare Pace, amore e tinturia per tutta la vita Ciao, Massimo saluto Ciao, Massimo saluto Ciao, Massimo saluto Ciao, Massimo saluto Ciao, Massimo saluto